Ciao a tutti! Oggi prepariamo le lasane. Ingredienti 300 g di carne macinata di manzo, 300 g di macinato di maiale, 400 g di passata di pomodoro, 3 cucchiai di ortolina che è questo qua del tubetto, una carota, 3 foglie di basilico, un spicchio di aglio che è qua, una cipolla e un gambo di sedano, e dell'olio extravergine di oliva. Mettiamo per prima l'olio extravergine di oliva. Mettiamo un tanto questo. Adesso mettiamo la cipolla per prima. Adesso schiacciamo anche l'aglio. Adesso schiacciamo il settano a pereci. Adesso mettiamo anche il settano tagliato a pezzi piccoli. Adesso tagliamo la carota. a pezzi piccoli, ma tipo picchetti piccolini. Facciamo in quattro. E poi lo tagliamo in altre due parti. Facciamo tipo così la carota. Io la carota lo taglio a fettini così perché mi piace di più. Adesso mettiamo anche la carota. Quindi abbiamo messo la cipolla, il laleo tritato, il sedano tagliato a pezzettini piccoli, la carota tagliata un po' a fettine. E adesso accendiamo il fuoco e lo lasciamo soffriggere. Adesso mettiamo la carne di manto. E la carne, quella di manto, è la lonza. Allora, adesso mettiamo anche un po' di pepe macinato. E adesso mettiamo un po' di vino bianco. Mettiamo il passato di pomodoro. E mettiamo anche l'ortolino. Ho aggiunto un po' di acqua. E adesso lo giriamo per bene. E aggiungiamo il basilico. Tre foglie di basilico. Lo lasciamo cuocere finché è pronto. Ora aggiungo un bicchiere d'acqua perché ci vuole un po' di più per la cottura. Lo giriamo un pochino e lo lasciamo cuocere mettendo coperchio sopra. Il sugo è pronto. L'ho lasciato cuocere per un'oretta e dieci minuti finché si restringe tutto. E deve diventare così. Adesso spegniamo il fuoco e lo lasciamo raffreddare un pochino. Metto un po' di sale nel sugo. Io lo metto sempre alla fine perché mi piace di più. e lo giriamo. Adesso prepariamo l'impasto per la pasta per le lasane. Abbiamo 500 grammi di farina 00 e 5 ova. Mettiamo un pochino di sale. Ho messo un po' di sale. Adesso lo giro un pochino. e facciamo un pochino dentro. Accegliamo un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Mettiamo anche le ova. Adesso cominciamo a impastare. Adesso cominciamo a impastare. Adesso aggiungo un altro pochino di farina perché ho visto che l'impasto non è abbastanza composto. L'impasto è pronto. Lo lascio riposare un pochino mentre preparo la besciamella. Prepariamo la besciamella per le lasane. Abbiamo messo qua un litro di latte intero. Aggiungiamo 8 cucchiai di farina 00. Aggiungiamo un pochino di rosero. Un pezzo di burro. Noce moscata un pochino. Lo grattugiamo. E un po' di sale. Tipo così un pizzico. Lo metto adesso nel latte. Aggiungiamo la farina e lo giriamo per bene con latte freddo. Aggiungiamo un po' di noce moscata che lo grattugiamo direttamente dentro nella pentola. Un pochino così. Giriamo un po' e aggiungiamo il buro. E adesso lo portiamo sul fuoco a bollire. Abbiamo messo sul fuoco. Lo giriamo un pochino e lo lasciamo cuocere. La besciamella è pronta. Deve essere così. Un po' densa. Ho preparato l'acqua in una pentola che adesso accendiamo il fuoco e lo facciamo scaldare. perché dopo mi serve per la pasta, per fare spolentare un pochino la pasta. Ho preparato il parmigiano reggiano perché adesso ne grattugio metà perché mi serve per le lasagne da mettere in mezzo. Quindi ne taglio metà, circa 250 grammi di parmigiano. Allora, tagliamo metà. Un pochino. Un pochino. Un pochino. Un pochino. Un pochino. Ecco così. Ho tirato l'impasto bello sottile e adesso lo tagliamo a metà in due porzioni, così. e lo mettiamo nella pentola a bollirlo per circa cinque minuti. Adesso lo mettiamo a bollire in acqua calda che sta bollendo. L'ho lasciata bollire per tre minuti e adesso lo metto nel piatto che poi mi serve per metterlo nella teglia. Adesso prepariamo la lasagna. Mettiamo prima un po' di sugo sotto, sopra la teglia. Ho messo un po' di sugo, adesso mettiamo la besciamella. Mettiamo prima. Abbiamo ricoperto bene con le sottilette e parmigiano E adesso mettiamo un altro strato di pasta Alla prossima La lasagna è pronta La lasagna è pronta La lasagna è pronta La lasagna è pronta La lasagna è pronta